Ciao a tutti da Diego di TecnoFan.it Eccomi di nuovo a recensire un prodottino di Xiaomi Scusate, è davvero molto molto interessante Si chiama Xiaomi Miya Mi Home Security Camera Un nome veramente lunghissimo È una telecamera di sorveglianza da usare in interno Non è adatta per l'esterno Ed è molto interessante perché è capace di ruotare Ok? A 270 gradi E riesce anche a guardare in alto e in basso Come vedete questo scorre su e giù Come ho detto la risoluzione E720p Si utilizza tranquillamente con l'applicazione Mi Home E devo dire che funziona davvero molto molto bene Perché ha varie diciamo funzioni di sicurezza davvero molto molto avanzate Nella confezione troviamo oltre alla telecamera il suo Adesso le faccio vedere Il suo alimentatore Alimentatore che vi arriva con la presa cinese Ok? Quindi dovrete acquistare un adattatore Oppure basta utilizzare anche un semplice alimentatore Io in questo momento sto usando un power bank Perché si può utilizzare anche con un power bank Chiaramente poi la durata della batteria non sarà elevata Abbiamo anche il suo bel cavettino USB, micro USB Che è lungo due metri Vedete come fate a saperlo? Lo so Anche se non l'ho ancora aperto È davvero molto molto lungo Perché diciamo ne ho avute altre di queste telecamere Quindi che dire Nella confezione c'è veramente di tutto C'è anche questa specie di supporto con due fischer da applicare al muro Perché poi cosa abbiamo qua sotto? Abbiamo questa specie di gancio che basterà ruotarlo Ok? Si fissa e quindi la potremo installare anche ad esempio a testa in giù Poi tramite l'applicazione software potremo scegliere di ruotare l'immagine Quindi di vederla diciamo verso il verso giusto Se così si può dire Nel retro abbiamo uno speaker Che serve per parlare attraverso la telecamera Nel caso ad esempio di controllo di animali Questo può essere diciamo un deterrente In più abbiamo qua nel retro il pulsantino per il reset Che serve chiaramente per resetarla E qua dove va inserito il pulsante di alimentazione Qua sotto Vedete basterà alzare Abbiamo lo slot per la micro SD Perché se inseriamo una micro SD La telecamera Possiamo scegliere diverse funzioni Ovvero una registrazione H24 Cioè registra 24 ore su 24 Con la possibilità poi di andare a vedere Quello che abbiamo registrato Oppure una registrazione Ogni volta che rileva un movimento In questo modo cosa succede? Succede che consumerà meno spazio sulla micro SD E avremo a diciamo anche Sarà anche più semplice andare magari a rivedere i filmati Filmati che come ho detto si possono rivedere tranquillamente Scaricando l'applicazione Mi Home Mi Home è un'applicazione gratuita Che si trova sul Play Store Disponibile sia per Android che per iOS Io questa l'ho impostata con il server di Singapore Perché ho messo server di Singapore? Perché avevo già altri dispositivi impostati sul server di Singapore Comunque devo dire che è tradotta completamente in inglese Non è in italiano Però la cosa bella è che non ci sono diavolerie in cinese Vedete questa adesso è l'immagine in tempo reale Ok? Vi faccio vedere come ruota In alto In basso L'interfaccia è molto molto semplice Abbiamo diversi tab in basso Che si permettono di utilizzare diverse funzioni della telecamera Ad esempio la funzione Detect serve per abilitare il rilevamento di un movimento Come funziona? Basterà andare a premere questo tastino in alto Premere più E puoi scegliere se si vuole utilizzare tutto il giorno Ok? Soltanto mattina e pomeriggio Alla sera Oppure custom time Ovvero un orario ben definito Ad esempio vogliamo utilizzarla dalle 7 di mattina alle 7 di sera Da lunedì al venerdì Noi lo potremmo fare A questo punto io per velocizzare scelgo all day Mettiamo next E cosa succede adesso? Ti dice posiziona la telecamera Aspettate ok Quindi noi la posizioniamo nel modo che vogliamo Ad esempio rilevare un movimento Sacc Sacc Ok Abbassiamo un pochino Mettiamo ok E adesso attiva Cosa succede? Succede che Ops Quando rileva un movimento Ci arriverà una notifica sul dispositivo Con anche il Con anche una porzione del filmato E questa è una funzione davvero molto comoda Perché abbiamo praticamente in tempo reale Quello che succede Ci viene subito notificato Allora nel caso poi Come ho detto Venisse rilevato un movimento Ci arriva una modifica Una notifica Vedete rilevate le modifiche nella zona di controllo E' strano perché le notifiche sono tutte in italiano Perché vabbè Quindi le cose sono un po' tradotte Un po' sì e un po' no E vedete che Poi Ci fa vedere anche il Video di quello che è successo Ci fa vedere una porzione di 10 secondi Adesso la vado a disattivare Se no Continuano ad arrivare notifiche Una dietro l'altra Ok Quindi avete visto Davvero molto molto semplice Chiaramente Bisogna avere per forza Una connessione internet Perché questa deve essere connessa Al vostro router di casa Tra le altre funzioni disponibili C'è la possibilità di scattare delle foto Premendo semplicemente foto Di parlare Ciao 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 Mille ecchi vari Possiamo anche sentire Perché ha un microfono Che ci permettra di sentire Quello che succede nella stanza e poi possiamo scegliere di registrare un breve video semplicemente premendo video lui adesso sta registrando un video e se avete inserito una micro SD abbiamo la possibilità nella galleria di andare a vedere tutte le volte che ha rilevato del movimento perché io ho impostato che deve registrare quando rileva un movimento quindi avete visto che comunque è davvero molto molto semplice l'interfaccia qui abbiamo la possibilità di mettere in pausa come ho fatto vedere prima di attivare o disattivare l'audio di ridurlo ad un quadratino ok vi fa vedere una finestrella esattamente questa con l'immagine che la vedete in tempo reale in questa finestrella così ritorniamo alla nostra applicazione possiamo scegliere la definizione arriva fino al massimo di 720p quindi HD oppure possiamo mettere automatico che andrà in base alla vostra risoluzione mentre questo per vederlo ha schermo intero cos'è poi questa barra qua? questa barra qua ci permette di fare una specie di time shift ovvero di tornare indietro nel tempo quindi basterà scorrere per andare a vedere dove ha rilevato dei movimenti dove vedete la parte colorata vuol dire che ha rilevato un movimento così ritorniamo alla nostra schermata iniziale premendo i tre puntini in alto a destra andiamo nelle impostazioni della telecamera possiamo scegliere ad esempio se disattivarla ad un certo orario ok magari per privacy vogliamo che di giorno quando siamo in casa non registra potremmo mettere determinati orari e momenti possiamo scegliere di attivare o disattivare la luce di stato il watermark ovvero l'ora diciamo l'ora e la data attivare o disattivare l'angolo aperto e scegliere di attivare o disattivare la visione notturna io la lascio in automatico perché è in grado grazie agli infrarossi di vedere anche molto molto bene di notte la possiamo calibrare ok farà tutto un giro e si calibrerà e possiamo anche scegliere di ruotarla come ho detto prima se la prendiamo al soffitto ad esempio possiamo ruotarla e infine possiamo riavviarla poi abbiamo la possibilità di impostare un livello diciamo di rilevazione del movimento da basso, alto o medio in questo caso se avete degli animali vi conviene magari metterlo alto perché se lo mettete low ad esempio se avete un gatto non viene rilevato ok e poi niente abbiamo la possibilità di impostare delle automazioni una specie di IFTT ovvero se vedo una cosa faccio una determinata cosa questa è una cosa diciamo che poi vi lascio smanichare da soli possiamo condividere il dispositivo perché se abbiamo ad esempio siamo in due in casa possiamo scegliere di dare permesso ad un'altra persona e quindi quest'altra persona può utilizzarla ok anche lei oppure impostazioni generali possiamo scegliere di cambiarci il nome controllo degli aggiornamenti firmware eccetera 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 quindi avete visto davvero molto molto semplice da utilizzare e soprattutto molto molto conveniente perché si acquista su Banggood ad un prezzo di circa 32 euro il prezzo oscilla ci sono dei codici sconto e vi consiglio di guardare sotto la descrizione del video perché ci sarà una sorpresa con un prezzo davvero molto molto vantaggioso quindi questa era Xiaomi Miia 360 a 720p una ottima telecamera di sicurezza da installare in casa sia per controllare la sicurezza della vostra casa ma anche per controllare animali eccetera 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 quindi super consigliata super facile da utilizzare ciao da Diego grazie a tutti